Ok, questo è quindi il web hosting che noi andremo ad usare in questo tutorial, si chiama Bluehost, comunque io lo consiglio vivamente perché l'ho usato comunque personalmente, ha molti benefici, come potete vedere qua comunque danno un dominio gratis per il primo anno, anche un certificato SSL, quindi praticamente sarebbe l'HTTPS che qua vediamo, ed hanno anche un buon supporto sia per Wordpress che anche un supporto comunque attivo sempre, lo confermo anch'io perché è veramente molto buono, molto rapido, come potete vedere è un sito web comunque molto serio, è uno tra i più famosi. Allora, premetto che io ho un link affiliato, quindi se volete un po' sopportarmi e volete aiutarmi per il lavoro comunque che faccio, se lo apprezzate potete usare il link per registrarvi a Bluehost. Ok, allora tra queste opzioni noi andremo ad usare quindi la prima, che è quindi quella più basic, come vedete ci dicono che possiamo usare un dominio, possiamo sceglierlo noi, noi andremo ad usare ecco qua panebuono.com o punto quello che vogliamo, ok? Quindi dopo il dominio, se la mia connessione funziona, ci porterà questa pagina dove ovviamente ci saranno tutti i campi da completare, ok? E poi come potete vedere ci sono questi prezzi qua, questi quelli possiamo anche togliere, non sono molto importanti, questo qua lo lasciamo invece, ok? Ci sono quindi vari piani, ci sono quelli di 36 mesi, quindi 3 anni, 2 anni e 1 anno. Allora, diciamo che tutti i web hosting danno questa opzione, è difficile trovarne uno che ti dice solamente un mese, 2, 3 mesi, di solito sono messi così. E quindi come va a funzionare? Se anche dovesse essere comunque un anno, viene a costare comunque 71 euro, 71 euro in un anno non sono affatto male e c'è anche da considerare però che danno un dominio gratis, ok? Quindi il dominio di solito, se potete andare a controllare, per un anno si compra comunque a un prezzo simile a questo qua, quindi comunque danno un dominio e un hosting a 71 euro non è affatto male. Se volete comunque risparmiare a lungo periodo, ci sono 36 mesi, quindi 3 anni, 142 euro non sono neanche male, anzi sono abbastanza cheap, ok? Quindi andate a fare un po' tutte queste cose, consiglio di lasciare ceccato solo questo e poi ovviamente andate a mettere la vostra carta di credito, quello con cui volete pagare, ok? Allora, noi torniamo un attimo a Bluehost, perché così faccio l'accesso, vediamo se me lo permette. Anzi, se il mio hotspot permette di caricare tutto ciò. Quindi adesso andiamo a vedere un po' quali sono le parti principali. Intanto vedete che c'è un accesso molto facile a WordPress con un one click install e poi qua ci sono varie alternative che possiamo scegliere, ok? Allora, noi intanto andiamo su advanced, così vediamo quali sono le cose migliori di Bluehost. Come vedete ci sono qua varie sezioni, c'è la possibilità di installare, c'è del file manager, quindi un po' di controllare i file, tutte queste cose. FTP connection, diciamo ci sono, c'è git, c'è anche dei database, quelli relazionali, quindi MySQL, PostgreSQL, c'è PHP, bla bla bla, tante altre cose. C'è la possibilità quindi di organizzare il tuo account, quindi la tua email account, con tutte e anche varie opzioni come mail filters, spam filters, eccetera eccetera. Non sto qua adesso a parlarne del dettaglio. Ci sono le varie metrics, quindi per calcolare un po' e analizzare i vari dati. Ok, da parte security c'è anche accesso con SSH, c'è il certificato SSL e poi ci sono anche vari software. Insomma, ci sono moltissime alternative, come ho detto in un anno viene a costare comunque 70 euro con un dominio gratis, non è affatto male. Potete voi anche consultare ovviamente altre cose, se decidete questo mi farebbe piacere se potesse usare il link affiliato. Ok, quindi questo come funziona? Adesso andremo a vedere un po' come caricare il nostro sito web, come settare la nostra email nei prossimi video.